Una percezione più intensa. La voce interiore attraverso Roberta S. I vostri vantaggi sono quelli che vi portano ad una percezione più intensa della realtà che vivete e non ha alcuna importanza se questa realtà non assume la forma che voi credete essere la più bella, perché in realtà non c'è niente di più bello di un'esistenza che prende la forma della sua stessa essenza. Allora, riconoscete nei vostri cambiamenti il vostro essere. Riconoscete il bisogno che avevate di quel cambiamento. Accorgetevi di quanto alcuni elementi mancanti fino a questo momento vi abbiano resi più insicuri e di quanto invece la presenza attuale di nuovi elementi vi faccia vedere le cose con una maggiore chiarezza.